È importantissimo controllare prima il diabete che arrivare poi alla cura successiva, quindi la prevenzione prima di tutto. La Croce Rossa italiana di nuovo in campo per la giornata mondiale del diabete, siamo ad Arezzo e qui viene misurata la glicemia per capire se ci sono risultati anomali. Molte persone pensano di stare bene, di non avere problemi sulla glicemia e invece tante volte risulta o un'ipo o un'iperglicemia, quindi bisogna subito controllare periodicamente la glicemia anche nelle analisi del sangue, quindi una volta all'anno quando si fa le analisi del sangue controllare la glicemia sarebbe importantissimo perché molti sono stupiti di averla più alta o più bassa del dovuto. La prevenzione è importantissima, ogni anno noi cerchiamo di essere in piazza per le persone, ovviamente con il covid è stato dura poterci essere, non è stato possibile, quest'anno che è ancora possibile fare attività in piazza abbiamo deciso di essere presenti per prevenire invece che trovare i pazienti che si devono curare all'ultimo, proprio perché durante il covid la prevenzione è stata difficile per tutti.